Perciò c'è una bella completa... ...e che io mi chiedi oggi... ...non ti posso darvi un sito di spazio... ...non ho capito che sia una persona di natura... ...e che non è solo una natura... ...non si può darvi un terno... ...non si può darvi un terno... ...non si può darvi un terno... La Ciccherina La Ciccherina